Ciao a tutti, oggi prepareremo la cassata al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono farina 00, burro, zucchero, lievito per dolci, vanillina, la buccia del limone, un pizzico di sale e uova. Per il ripieno ricotta, zucchero e gocce di cioccolato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zucchero e la buccia del limone. Le andiamo a polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo lo zucchero. Adesso andiamo ad aggiungere la farina. le uova, la vanillina, il pizzico di sale, il lievito per dolci, il burro e andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 5. Il nostro composto è pronto. Adesso andiamo a formare una palla, la rivestiamo con pellicola trasparente e la lasciamo in frigo riposare per mezz'ora. Dopo aver lavato il boccale, asciugato bene, andiamo a mettere lo zucchero. e lo andiamo a polverizzare 10 secondi a velocità 10. Andiamo a riunire sul fondo lo zucchero. Andiamo ad aggiungere la ricotta che deve essere ben sgocciolata. e la amalgamiamo per 20 secondi a velocità 3. La nostra ricotta è pronta. Adesso aggiungiamo le gocce e le andremo a mescolare lentamente con la spadola. Dove aver amalgamato la ricotta con le gocce di cioccolato, andiamola a mettere da parte in una sciotola e conserviamola in frigo. Dopo aver uscito la frolla dal frigo, prendiamola in una parte e andiamola a stendere tra due fogli di carta da forno. Sempre. Vediamo le pizze di toccolo. Vediamo le pinche. Vediamo le pinche. Dopo aver steso la pasta rimuoviamo il foglio di carta da forno e con l'aiuto della nostra teglia andiamo a ritagliare il disco che farà la parte superiore. Adesso con l'aiuto del coltello andiamo a ritagliarla. Adesso andiamo a mettere in frigo e andiamo a riprendere l'altra frolla da stendere. Adesso andiamo a stendere il resto della pasta frolla. E vediamoci posizionando un altro foglio di carta da forno. Adesso andremo a mettere la frolla all'interno del nostro stampo. Dopo aver rivestito il nostro stampo con la frolla adesso andremo a riempirlo con la ricotta. Andiamo a mettere la ricotta e la iniziamo a distribuire. Adesso con un po' di album d'uovo sbattuto andiamo a spennellare i bordi della nostra cassata, sul quale posizioneremo il disco di frolla a chiusura. Adesso andiamo a posizionare il nostro disco. Andiamo a chiudere i bordi per bene schiacciando verso il basso. Adesso andiamo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per un'ora. La nostra cassata è pronta. Adesso la lasceremo raffreddare. Dopodiché la usciremo dallo stampo e gireremo sottosopra. Adesso che abbiamo girato la nostra cassata andremo a decorarla. Per decorarla ci aiuteremo con delle strisce di carta da forno che andremo a posizionare. Dopodiché andremo a mettere lo zucchero a velo. Adesso andremo a spolverizzarla con lo zucchero a velo. Per aver messo lo zucchero a velo andiamo a rimuovere le strisce di carta da forno. La nostra cassata è pronta. Cassata al forno. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.